Buonasera a tutti, come vi ha detto il nostro fantastico presentatore qualche anno fa abbiamo lanciato Maham, che è un modo per diventare consapevoli del fatto che diventare genitori allena competenze trasversali che sono utili anche sul mondo del lavoro. Quindi noi abbiamo messo su un'impresa che vende questa piattaforma digitale alle aziende in modo che le dipendenti di azienda che vanno in congedo di maternità prima, durante e dopo il congedo realizzano quali competenze trasversali stanno allenando in modo naturale con l'esperienza della maternità e tornano in azienda invece di sentirsi delle povere sfigate, come ci sentiamo di solito sentendosi più forti e consapevoli di quello che sanno fare. Questa piattaforma funziona così bene, esiste da un anno, che da un mese abbiamo lanciato il programma anche per i papà perché noi non vogliamo escludere l'uomo da questa esperienza così formativa e così rafforzante come quella di praticare la paternità, soprattutto visto che la pratica della paternità allena l'intelligenza emotiva, che è una competenza ricercatissima dalle aziende, solo che non sanno come allenarla. Ma perché si chiama la maternità e un master? Me l'hanno chiesto diverse volte, io non credo che le madri siano meglio delle non madri, né credo che le donne siano meglio degli uomini, però mi sono resa conto che tutti noi abbiamo accettato in maniera implicita che nella nostra vita pubblica a dominare sia un paradigma naturale della specie umana che è il paradigma della competizione. Nell'ambito della sfera pubblica che vuol dire nel lavoro, nell'economia, nella politica, noi viviamo costantemente nell'idea che si tratti di un gioco a somma zero. Il gioco a somma zero è quel gioco in cui qualcuno deve sempre vincere e qualcuno deve sempre perdere. Come ci accorgiamo che questo è il mondo che ci viene proposto, che questo è l'istinto umano che prevale in tutte le dinamiche del lavoro e della politica. Ce ne accorgiamo semplicemente dalle immagini, che ci sembra naturale vedere tutti i giorni sui giornali, ce ne accorgiamo in maniera anche forse più sottile, ma vi invito a leggere i giornali con quest'ottica, dalle parole che vengono normalmente usate quando si parla di politica e quando si parla di economia. È normale leggere parole come attaccano, odio, lotta, è normale leggere parole come guerra, ma stiamo parlando delle imprese, stiamo parlando dell'umanità, di ciò che noi facciamo in termini produttivi per essere tutti più felici. Ma abbiamo sposato e accettato su pienamente l'idea che in questo mondo prevalga il paradigma della guerra. È un paradigma molto naturale, radicato nel nostro istinto che ci portiamo dietro da centinaia di migliaia di anni e quindi è chiaro che ha una risonanza molto forte ed è facile da accettare e forse addirittura facile da ignorare. Questa è la sua forza. L'anno scorso, a un certo punto, più o meno in questa stagione cominciano gli sbarchi degli immigrati e l'anno scorso a un certo punto sul Corriere Online c'è stata questa foto. Era una barca, una coppia, un marito e moglie con una coppia di amici, erano a largo delle coste mediterranee, con una barca a vela, come può esserlo chiunque di noi, e in acqua hanno trovato questo ragazzo. Era in fin di vita, sono riusciti a salvarlo, l'hanno tirato su e questo è un abbraccio che la donna sulla barca dava a quest'uomo, a questo giovane uomo. Non lo conosceva. Lei ha detto che salvarlo è stata una cosa che mi ha dato un'emozione profondissima. Vedete che questo è un abbraccio materno e lui non è un bambino, è un uomo. Ma l'istinto materno è molto profondo e non riguarda solo le madri. La specie umana non ha solo l'istinto alla guerra e alla competizione, la specie umana sopravvive grazie soprattutto a un altro istinto che è quello dell'essere sociali, è quello del prendersi cura gli uni degli altri. L'essere umano è il cucciolo che ha bisogno di supporto più a lungo di qualunque altra specie animale. Il cavallo dopo sei ore che è nato è già in piedi. Il bambino ha bisogno di anni e anni di cure per poter sopravvivere. C'è una ragione biologica per questo. Noi abbiamo bisogno degli altri quando abbiamo paura, abbiamo bisogno degli altri quando siamo in difficoltà e andiamo ad aiutare gli altri quando troviamo una persona per strada che è caduta per terra o quando c'è una catastrofe naturale. E questa capacità che abbiamo di aiutarci l'un l'altro nel corso degli anni, di scoprire le debolezze e di andare vicino alle persone che hanno bisogno, questa è una capacità essenziale della nostra specie che ci accompagna in ogni momento della nostra vita. Per qualche strano motivo che io faccio fatica a capire abbiamo deciso però che tutto questo aspetto della nostra umanità dovesse essere relegato o alla dimensione privata della nostra vita oppure al sociale. Lo si fa nel tempo libero, lo si fa se si hanno i soldi, lo si fa se è proprio un nice to have si dice in inglese e non riguarda invece l'essenza della nostra economia, della nostra società, che vi ricordo invece vive della competizione, come se la competizione fosse essenziale alla sopravvivenza. Come trasportare questo concetto nell'economia? Beh, molto interessante, l'anno scorso è uscito un report del World Economic Forum che raccontava quali sono le dieci competenze più importanti per il mondo del lavoro nei prossimi anni. Il team di Maham, quando abbiamo visto questo video, abbiamo letto questo report, siamo svenuti, abbiamo fatto un salto sulla sedia. Vi farò vedere adesso questo video e fa vedere queste dieci competenze così essenziali al mondo del lavoro. Noi ovviamente l'abbiamo preso, le competenze sono le stesse, ma abbiamo cambiato le immagini. Quando vi dico che le aziende hanno bisogno e l'economia ha bisogno di queste competenze per fiorire, per avere successo, vi dico anche che le aziende solo in Italia spendono un miliardo di euro all'anno per sviluppare queste competenze nei loro collaboratori e vi diranno tutte che la cosa più difficile è proprio trovare palestre e dove allenarle queste competenze. Ecco quindi che proprio quelle competenze della cura e delle relazioni con gli altri che noi abbiamo sviluppato così bene nel nostro privato diventano forse essenziali per avere un impatto anche nell'economia. Il paradigma della caccia, della guerra, della competizione è fortemente radicato nell'essere umano, soprattutto nei maschi che nei millenni, centinaia di migliaia di anni hanno avuto il compito di andare a caccia per la nostra sopravvivenza e quindi chapeau a questo istinto che ci ha consentito di mangiare e di vivere per così tanti secoli. La ragione è ovviamente che l'essere umano sin dalla preistoria ha dovuto categorizzare, questi sono i primi stereotipi del genere umano, l'uomo di Neandertal aveva a se stesso poi aveva le cose che io voglio mangiare e le cose che mi possono mangiare, questo tipo di categorizzazione spingeva a riconoscere ciò che tu volevi attaccare e ciò da cui ti dovevi difendere, quindi è chiaramente un istinto molto forte. Altrettanto forte però è al centro, al cuore della sopravvivenza della nostra specie, c'è un istinto diverso che è quello ad avere cura degli altri, è un istinto da cui dipende la sopravvivenza della specie umana, individualmente essere forti può portarci avanti, come collettività se non siamo capaci di stare insieme siamo destinati a estinguerci come specie umana. È chiaramente un set di competenze che noi donne conosciamo molto bene perché lo frequentiamo da centinaia di migliaia di anni e c'è un evoluzionista, uno scienziato evoluzionista che si chiama Franz De Waal se non sbaglio che in un suo libro recente che si chiama L'era dell'empatia ha scritto la maternità è un template evoluzionista di ogni tipo di legame, quindi lui dice proprio i legami sono importantissimi, di tutti i tipi di legami possiamo definire la maternità un template, un modello, per questo la maternità è un master, la maternità è un master è semplicemente fare riferimento a un modello, a un template originario a cui tutti noi ci possiamo ispirare e che noi donne abbiamo il dovere, il dovere di portare urgentemente nella vita pubblica. Questo non è solo fare innovazione e non è neanche, anche se un pochino lo è fare una rivoluzione, in realtà è semplicemente ed essenzialmente un'evoluzione di cui la nostra specie ha bisogno. Grazie. Grazie a te Riccarda. Grazie a te Riccarda. Grazie a te Riccarda.